che gliel'hanno detto? meno twitter e più giochi! sta giocando male che poi ti fai ancora con le cappelle come l'altra sera vabbè l'altra sera è stato sfortunato però è una volta sfortunato, è una volta perché è fischiata una però è fischiata da solo proprio da solo no, un po' la maglia gliel'ha tirata però dai 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 fuori gioco, fuori gioco fuori gioco è fuori, meno male questa maglia azzurra è... confondo, l'hai visto qui? questo non c'era, questo non c'era questo non c'era questo non c'era secondo me anche ovviamente è dubbio è dubbio questo dopo lo riguardiamo dai è importante che le scappa nella stessa maniera centralmente attenzione perché se non lo vedi... dai 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 bello 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 giocano insieme bravo comunque ci sono un casino eh hanno sbagliato la sciolina pallo dietro le mani occhio bello basta vieni ma bisogna essere sempre giuventini non facciamo gli giuventini chi non è fischia non è fischia gli ha dato il vantaggio però quando non si concretizza fischia dai Kevin questa è la giocata classica di Kevin bravo dai 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 vieni su prendiamo qualche punto buona questa è buona bravo Giallu vai è un tritacano va bene va bene bravo Gianluca bravo bravo lasciamo a Cirillo là che non lo sopporto dove? lasciamo a Cirillo là ah esce entra è diventato dov'è? ammiglia ormai passa più tempo al bar che in tribuna ma è giusto c'è lui destro l'altro mancino l'abbiamo visto un'altra volta come dai Fabio dai si stava toluto è uscito Barone ha messo Dennis a destra qua e dove è Trombetta? è là dove? al suo posto vicino alla beppe ossia lì vicino alla panchina adesso hai visto? e chi è uscito? è uscito Barone ha spostato Dennis a destra avanti a Gianfranco ma non devono cambiare guarda lì al secondo tempo guarda come qua si di solito buah ma a questo gli piace stare al sole bello occhio eh dai Eddo vieni più largo Franci vieni più largo Franci è buona è buona vai Gabri tira mamma mia ma Gabri se l'ha centrato bene però Gabri mi ha passato a portiere vabbè l'ha presa male Sandrini mica le ciambellescono sempre col buco salire no calma tira tira solo vieni su uomo uomo bravo Franci sei solo uoila numero bravo bravo dai Luca vai Luca vai Luca dai dai non ce n'è non lo butta per terra bravo ballo però qua uoio è nostro è nostro questo era su la palla ha toccato il piede ha toccato il piede c'è un cambio non cambia dai Ciri forza eh guarda l'11 ma in avanti 7 8 e ora si l'abbiamo percicciato l'abbiamo percicciato l'abbiamo percicciato l'abbiamo percicciato no andò potevi stare di là però vabbiamo stato tranquilli bello bravo c'era giovane c'era giovane battila 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 no così no così bravo bravo occhio che questo gli dà rigore eh se ti butti per terra dai Ciri bravo ma cosa fai ha tenuto la palla giù per terra ma non l'ha trattenuto ma non l'ha trattenuto oh calmo 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 dai ragazzi vai da noi fanno bollino bollino centrale adesso e francesco a destra si è entrato l'anzia fa mi ha messo a centrofanno eh è uscito è uscito è uscito Franci comunque a parte gli schiare adesso a parte tutto quelle cose là non si fanno è la vecchiaia perché c'è un ragazzino e dai su vai dai Fabio dai Fabio dai Fabio cross cross prendo uno uno e fila ma dai ma dai ma dai ma dai ma dai 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 ho fatto un bel dai una bella fluta un bel cross eh che ho fatto Angela mi viene da qua è Kevin bravo Kevin che è con dita ah l'ha fischiato uno meno male inoltre del piccole cazzate metti in mezzo, chiedi dai, aria è buona bravo 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 va bene così, bravo dai ragazzi, forza Urione, su, su Emi, ma che vuoi fare? sale, scendi non per qualcosa, non ti caldi ti fai male in braccia di nuovo è un buon ragazzo, è un buon ragazzo una punizione che non c'era bravo dai ragazzo, capri mannaggia te ma perché perdono le palle? forza Urione, su ragazzi, grinta, su dai, vai, vai dai, vai occhio Alvi, dai dietro occhio Alvi bravo Luca è bravo Luca sali, sali vai in due vai su vai vai bravo non fate errore non l'ho visto siete in due vai da qui in tiro bravo 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 capri bravo 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 ma no il genuco è bellissimo è già stato e pochino tre abbiamo l'uomo d'avanti 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 poi prende il contropiede e si scoperte esatto un destro o un centrocampista è bene poi deve entrare ci mette il doppio a rientrare si per forza ti scoperte se sei da solo oh come fanno più sempre ha tolto sali e ha messo bollino centrale bravo Fabio bello mamma mia ma mica ne vado no farlo farlo dai però c'è giallo per noi no ecco è buona è buona bella bravo 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 fai 3.000 tiri 3.000 occasioni poi c'è una minchiata così e pigli un gol dai 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 che ce la fanno su ragazzi è buona è nostra dai 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 ragazzi però prima erano più grintosi sì però dai dai su ragazzi grinta più severo più su bello bravo bravo vilano ooooh il rigore ma cosa ooooh fuorigioco ooooh c'è il bambino per terra Antico c'è il bambino per terra orio 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 ma almeno si scappola il cuore era l'aria minchia era espulsione ah vai conosce qualcuno dell'academia inter vai da qui dai ragazzi ma dai quasi espulsione ma poi come fa a simulare in una cosina del genere no dai ma lui non si butta già Luca non è uno che si butta dai 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 No, in due! No, in due! In due, in due! In due! Che cacchio! E noi dobbiamo beccarsi! Su queste cose qua non ci sono discussioni! Ma fischia uno! Ma fischia uno! Ma fischia uno! Ma io parlate bene! Uomo! Pallate bene! Dai 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 dai! Ma poi c'ha lì un prego! Però i nostri... Ma indipendentemente non può non aver visto... Tra l'altro è rimasto anche per terra! Quello è pazzo! Dai 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 va bene! Se la giochiamo va bene! Su! Bravo dai dai dai! Davide! 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 Dai 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 dai! Bravo! Bravo! Bravo Giallo! Bravo dai 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 dai! Unchia una cosa incredibile! Mi devo incazzare in tutti i settori! Ma si dai! Va bene! Se la giochiamo sono ancora in grado di vincere! Ma si! Ma no! Io non voglio ormai! Stai largo sempre te! Però così! Ma se ci metti troppi dai! Chi è Teo? Chi è Teo? Chi è Teo? Bravo! Bravo dai! Teo! Orione! 2003! Com'è andata la partita? Eh! Molto giusto! Ma quello deve finire! Questa sarà quello nuovo magari! 20 minuti! Ma quello che si sta allenando! Eh! Maury! No! E' Coviello! Maury quanto manca? Coviello? Manca 20 minuti! Chi è Coviello? 23 minuti! Coviello è portiere nel 2002! 23 minuti manca! Che stai adesso c'è? Eh si! 12 minuti solo! Ah si! Un tempo c'è? Ma quando le batterie si mettono così e finisce sempre male! No! Te lo dico io che cosa è! No no no! Dai! Dai! Portalo! 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 Ma lanciate! Bravo! Buongiorno! Si! Porta Orione su! Occhio allì! Meno male! Che sbagliano! Bravo! Prendila! Vai! Prendila! 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 Vai! ma che cazzo di sportività di me vedi 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 guarda che rovini le partite angelo rovini le partite così non lascia stare c'è il mister aspetta non aspetta perché voi prima rovini le pompe guarda 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 vai 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 alba occhio bravo Kevin occhio Polino al vitro al vitro centrocampo ragazzi su su vai 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 mandalo vai vai bello vai vai no 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 la chiesa con l'esterno ale 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 orio d'ale ale ale no 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 non l'ha togliata nessuno ma non è uscita fuori si è uscita fuori si è uscita fuori si è uscita fuori non è uscita fuori è uscita fuori no dai capi dai 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 se si butta si deve buttare se si butta arriva se si butta arriva al vitro al vitro al vitro vai 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 al cattivo in campo su che no su che no dai 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 occhio dietro al vitro al vitro solo bravo luca vai va bene va bene raga dai ragazzi su attaccati in porta no ma no ma è assurdo quella roba lì è assurda veramente assurda ma anche un bambino di due anni l'avrebbe l'avrebbe fischiata vai bravo dai però vai 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 Gianluca ma sì ragazzi posso sbagliare anche loro eh possono sbagliare anche loro eh vai vai mandalo bravo bello troppo sul portiere va bene dai buona dai 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 mandalo 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 i ragazzi aiutaci io non so bravo kevin ancora 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 una palla eeeh eeeh è sulla palla è sulla palla quello dai kevin kevin eeeh questo è una palla basta che non si incazza calma raga la prossima volta devi cacciare il divano mi succio con il divano al prossimo lasciala dai albi bravo bravo dai dai luca dai vieni solo dai vieni dai vieni dai vieni dai vieni no vai capri bravo dai dai orione non si segnalano nemmai non si segnalano nemmai non si segnalano nemmai torta capri più potenza venito venito uomo uomo solo vai vai albi soli ragazzi ragazzi con calma dai va bene raga la vuoi così dai 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 ragazzi su dai fabio dai fabio dai non tenete troppo la palla toc 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 senti che calcio po po pi non si sente un'altra toc 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 e beh certo vabbè certo vabbè vabbè kevin kevin qua 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 vai dai kevin vai 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 dai un po' costo vabbè ma doveva darla sull'esterno va bene va bene dai bravo questo portiere qua oh attaccalo 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 vai 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 occhio dietro tira nostra stai lì stai lì vai vai battere l'angolo dai ce la vai battere patri adesso qua no c'è già un centrale è andato a saltare è buona è buona va bene bravo Fabri va bene forza ragazzi Fabrizio dai ragazzi tutti in coro forza ognone a te ognone a te ognone a te forza ognone a te ci fa cadere tutte le ragni a te l'intesa dai Fabio dai Ciri dai no inca che culo che hanno però ti ho visto guardi Aldi prendine già un po' lì il nostro quello che è scandaloso sono 19 no minuti che gioca no è già 24 25 10 minuti dietro è dove veloce vai 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 tira Aldo andalo bravo sali 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 dai 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 ragazzi su occhio numero 9 a dai bravo bravo dai Luca su 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 ragazzi bravo dai a Cristo bravo ma la prende stai tranquillo bravo batti subito avvicinati dai 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 il bravo è supero dai ragazzi dai vabbia a mezzo dai un'chia una a 4 il donso dai 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 Albi avvicinati bravo 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 parzoriane dai vai dai ragazzi madonna mia Albi vai su Albi avvicinati al limite Albi vai sopra al limite vai lì al limite qualcuno fa gol gol nooo nooo no ma la partita si è rovinata lì basta ma chi è che ha colpito di testa era dentro minchia l'ho vista dentro io c'è anche il sardino Gabriele devi fare questo gol o no si è rovinata lì la partita no no su quel fallo lì occhio vai qua apriti Albi vai avanti portala 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 su e tira bravo vai vai dai dai no fama ragazzi però bravo 10 minuti 10 anche meno dai che manca poco 2 minuti cipolli alè lei alle e alle alle a allue orale allue suve nostra dai dai Gianfra vandano dai no 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 bravo 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 uno qui qui bravo dai 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 suve no devi andare da solo qua aiutavi loro si va bene non capita non deve capitare bravo vai 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 bravo dai dai bravo su ragazzi vandano 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 ma come sta giocando lui la tua spalla ma che cazzo dopo il gol abbiamo giocato solo noi eh ma però visto che abbiamo bisogno di sbagliato quello l'hanno fatta hanno fatto mezzo tiro in porto vai Gabri mandalo di qua dai dai mandalo allo calvin bravo no va bene va bene bravo bravo ha tirato bene dai Fabri dai Fabri dai Fabri dai Fabri noi in campo non ci siamo ma va bene oh Fabri ti fai da tre eh troppo attento si si ha tirato bene e io l'ho ammesso a metterlo eh si adesso a tre ha allargato dai Fabri dai Fabri dai che è tira dai Alvi dai Alvi dai Alvi dai Alvi rupalo girare dai dai metti in pezzo dai questa è la pona da fuori non sanno che il portiere è bravo ti ha più potenza dai che difficoltà dai Fabio dai che difficoltà occhio dietro dai Fabio dai Fabio bravo Fabio cosa ha fischiato prima la lascia ma la vedo diversamente vai via Angelo vai via ci ha rovinato la partita mezzo tiro in porta l'ho fatto ci ha rovinato la partita eh ma c'era proprio fatto qui vedi che allora che lì sarà in città no 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 Dalle occhio Robo dai 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 2 dai 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 1 qua qua 1 giratici qua si è fottosto dietro giusto che facciamo ste cose perché vai che stiamo ancora dai 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 che finita ragazzi comunque facciamli ah al corso vai che fallo laterale è sta roba lì capisci il cazzo fuori dai 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 bello vai non c'è nessuno vai oh mandalo mandalo vabbè la lunga occhio qui ma com'è mia mia chiudi bravo chiedi bravo chiedi bravo chiedi uomo uomo perché ma perché è facile vedi come li fa poi inermosire vedi non deve tagliare la pala qui così perdono tempo albino bravo 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 albino vai albino c'è nessuno ma vallaggia vai albino dai albino dai albino 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 devi buttare per terra è vero che l'ha spinto eh lo so ma ti devi buttare non devi stare in piedi c'è la golli sicuro dai che c'è il recupero dai Fabio ma non ci dà neanche il recupero questa non l'ha dato non l'ha dato bravo albino bravo bravo